Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, a Villino. È della donna che avrebbe minacciato l'ex marito con una pistola all'auto andata a fuoco in un rione popolare di Ariano Irpino. Parliamo con il condizionale, poiché lei nega del tutto la versione dell'uomo riguardo le minacce con l'arma. Intanto la sua macchina, ancora intestata all'anziano papà con cui vive, che ha sporto denuncia verso i gnoti, è andata quasi completamente distrutta. L'incendio sarebbe di natura dolosa. Pare che nella notte tra giovedì e venerdì qualcuno vi abbia cosparso del liquido infiammabile e vi abbia dato fuoco. Sono intervenuti i caschi rossi di Grotta Minarda e la polizia di Ariano che ha avviato le indagini. L'auto è stata rimossa dal soccorso ACI e trasportata nel deposito di Rione Martiri in attesa di eventuali ulteriori accertamenti. Dunque non c'è tregua nel piccolo quartiere popolare a ridosso di Rione Cardito. La settimana era iniziata con il litigio degli ex coniugi, culminato con la denuncia da parte di lui ai carabinieri per essere stato minacciato dalla moglie con una pistola. Pare infatti che nonostante i due non stiano più insieme da vent'anni, non abbiano mai formalizzato il divorzio. Adesso che lei desidera rifarsi una vita con un altro uomo, la sua necessità di chiudere la partita. Ma evidentemente lui non è d'accordo per gelosia o per interesse e si era recato a casa di lei per discuterne. La questione ha riportato a galla vecchi rancori e rischia di degenerare. Ora l'episodio dell'auto, che potrebbe non essere affatto collegato ai fatti precedenti, sarà la polizia di Ariano a questo punto a stabilirlo.